Tutto pronto a Cerreto Laziale per la 42esima edizione della Sagra delle Pizzarelle che si terrà il prossimo 21 e 22 settembre a Cerreto Laziale. L'associazione Proloco con il patrocinio del Comune di Cerreto Laziale organizza un weekend ricco di avvenimenti e enogastronomia. La Proloco per questi due giorni ha pensato ad un ricco programma e in caso di pioggia la piazza sarà completamente coperta da un'attenso struttura, intrattenimento musicale durante l'intera manifestazione. Si parte sabato 21 settembre alle ore 11 l'apertura della torre con relativa mostra artistica, alle ore 17 apertura stand della birra artigianale al cura della Fucina, ore 19 apertura stand gastronomici. Si prosegue il 22 settembre con un programma ricco, sin dalle ore 9 con l'apertura della torre e la mostra artistica, alle ore 12 apertura stand gastronomici, alle ore 16 e 30 visita guidata nel centro storico, ore 17 distribuzione della tradizionale ciammella, alle ore 19 l'apertura degli stand gastronomici, per poi arrivare alle ore 20 con l'estrazione della lotteria. Non mancate alla 42esima edizione della Sagra delle Pizzarelle a gustarvi questo piatto della tradizione laziale, il prossimo 21 e 22 settembre a Cerreto Laziale.